Come usare la voce e come renderla più interessante? Tanti mi dicono la mia voce è brutta, è nasale, non mi piace, non è adatta, non diventerò mai un professionista del microfono. È un errore. Non esistono solo voci belle, così come non esistono solo attori belli. Servono tutte le voci, purché siano voci educate, usate nel modo migliore. Cosa vuol dire voce educata? Vuol dire una voce che ha un buon controllo dell'articolazione, dell'addizione, della chiarezza e che ha un buon appoggio nei risuonatori naturali, ovvero quelle parti del nostro organismo che fanno da amplificatore e che permettono alla nostra voce con poca fatica di arrivare in ambiente e avere una serie di vibrazioni che vengono comunicate all'ambiente in modo tale che il suono sia ricco, sia importante e interessante, sia se ci ascolta un essere umano, sia se la nostra voce viene ripresa da un microfono. Capiamo questo elemento, l'abbiamo già detto in altri appuntamenti, il microfono, se parliamo di chi si occupa di audiovisibili, è un supporto di cui non possiamo fare a meno ed è un supporto che non premia le voci stridule, che non premia le voci strozzate, che non premia le voci strillate o troppo sospirate. È uno strumento che ha bisogno di una voce consistente, con una sua pienezza, un suo timbro, quante parole chiave che troveremo, e che soprattutto mantiene coerenza e varietà. Ecco, della varietà parleremo come argomento importante perché spesso e volentieri ci dimentichiamo che essere vivaci, interessanti, stimolanti, è la chiave per essere seguiti con interesse.